adesso rispondo a nicoletta che mi chiede le tue tecniche possono aiutarmi anche a superare concorsi pubblici allora grazie per la domanda nicoletta la risposta è che tipo di concorsi di sicuro le tecniche possono aiutare però è importante capire bene perché se il concorso ha una serie di domande a risposta multipla si usa un certo tipo di tecniche se invece ci sono delle domande aperte su una serie di argomenti allora se ne usano altre e quindi è fondamentale come sempre andare in modo specifico e verticale sulle tecniche per te più importanti se mandi un'altra mail dove vai a specificare che tipo di concorso è e che cosa ti viene richiesto allora ti posso aiutare in modo più approfondito a livello generico ti dico sì le tecniche aiutano a passare concorsi pubblici e non solo aiutano a 360 gradi tutto quello che riguarda apprendimento ti auguro faccio un grande in bocca al lupo e a presto ciao